Cosa è l'ecografia pelvica? Un ultrasuono pelvico è uno studio di imaging ecografico condotto allo scopo di esaminare le strutture anatomiche all'interno e intorno al bacino. Questo tipo di studio di imaging può essere utilizzato per esaminare il tratto reproduttivo o il tratto urinario, per dare un'occhiata più da vicino a strutture come l'utero, la vescica, i reni e la prostata, tra gli altri. Ci sono una serie di ragioni per cui un medico può richiedere un'ecografia pelvica e sono disponibili diversi tipi. L'imaging ad ultrasuoni comporta la generazione di onde sonore ad alta frequenza che sono dirette nel corpo, dove rimbalzano dalle strutture interne. La macchina ad ultrasuoni registra le onde sonore a loro ritorno e utilizza le informazioni su come le onde sonore sono cambiate per generare un'immagine dell'interno del corpo. L'ecografia è considerata una forma non invasiva di test medici, poiché non comporta la rottura della pelle. In un'ecografia addominale, la sonda ecografica viene tenuta sopra lo stomaco. Può essere spinto nello stomaco per ottenere un'immagine o un angolo migliore, e il paziente di solito si trova sulla sua schiena per la migliore immagine. In un'ecografia vaginale, chiamata anche ecografia transvaginale, la sonda viene inserita nella vagina allo scopo di ottenere un'immagine migliore, poiché meno tessuto si troverà tra la sonda ecografica e l'area di interesse. L'ecografia rettale o transrettale comporta l'inserimento della sonda nel retto. A volte, un ultrasuono pelvico viene utilizzato nel processo di diagnosi della malattia. Il medico potrebbe voler vedere se un paziente ha un'anomalia congenita, un blocco urinario, un tumore, un fibroma o un'anomalia simile che potrebbe spiegare un problema medico. L'ecografia pelvica viene anche utilizzata nel trattamento della fertilità e per monitorare il decorso della gravidanza di una donna. Lo studio di imaging può anche essere ordinato dopo l'intervento chirurgico, per confermare che il paziente si sta riprendendo bene. In tutti i casi, possono essere necessarie diverse ore o giorni per ottenere risultati dal test a ultrasuoni, a seconda di quando il medico ha il tempo di interpretare le immagini. Per prepararsi all'ecografia pelvica, un paziente dovrà indossare abiti larghi e comodi, e lui o lei potrebbe essere chiesto di cambiarsi in un camice. L'ecografia addominale non dovrebbe causare alcun disagio. L'ecografia transvaginale può essere alquanto a disagio, ma di solito è meno spiacevole di un esame pelvico manuale. L'ecografia del retto può essere scomoda per alcuni pazienti, con un livello di comfort simile a quello di un esame rettale manuale.